musica 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 buongiorno a tutti ragazzi sono Zobroxy ed è arrivato in questo nuovo video di questo gioco che si chiama Lega of Legends il sito è in descrizione se avete qualche domanda come vedete ci sono più quei mezzo mi piace veramente tanto questo ometto cerco di impegnarmi oggi al massimo questo è un gioco di strategia guardate io ho 295 di ping ok ragazzi sono una merda ragazzi una merda ambulante come vedete però sono già in invocazione sono figo quindi ho scelto Ziggs perchè? perchè lui tira tipo delle specie di bombe che mi piacciono troppo a me a me gustano troppo quindi io oggi spero di vincere poi qui c'era un altro che era italiano diceva Matteo diceva sulla chat che era italiano vabbè iniziamo subito a giocare ragazzi sono pronto spero di non laggare l'unica cosa dai 16% io veramente spero che i video vi piacciono yeah 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 sono felice perchè yeah ok mmm beh aspettiamo che finisci intanto ok stiamo tutti in invocazione ha finito qui gay ok quindi andiamo subito qui io direi subito di comprare questo perchè veramente mi serve ok che belle voci ragazzi 60 fps oh sono figo no basta allora a me in questa mappa veramente ragazzi mi piace stare qui in mezzo quindi andiamole intanto questo qua è veramente un bel gioco di strategia ci vediamo quando sono lì perchè no ok no ok sono già qui ok quindi ora andiamo qui non faccio schifo cazzo sono ok no ok oh 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 ui ui ok no perché 30 secondi non ti affanculo ehm ehm chi non sei tasti b si torna come vedete solo che non voglio no non voglio non voglio non si può fa un culo ah ok quindi ragazzi questo qua è veramente un bel gioco di strategia ehm consiste nel eh ci sono questi ometti qua e noi dobbiamo batterli praticamente ovviamente ci sono sia i bot i minion che sono veramente carini ci sono sia i minion oppure se siamo noi personaggi che noi allora il minion non sono i computer ah ok no ehm io ovviamente di solito li metto di qua ok alla cazzo così perchè mi piace cazzeggiare quindi se chiedete a miss g90 quando cazzeggio con lui questo qua è veramente un bel gioco è un talent killer sì ok ok devo mettere lui è più forte di me ma potrei benissimo batterlo ok ok questo dai ok dai ragazzi posso fare la prima uccisione no ok 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 ragazzi ho pochissima energia quello non è capace di giocare sono morto sono figo ok basta vediamo se c'è qualcuno di loro che è già morto comunque una volta morti ci ritorniamo qua ovviamente non perdiamo niente poi ogni secondo che passa si alzano questi soldi che con queste monete diciamo non è euro ragazzi con queste monete noi cosa possiamo fare è comprare più cose vaffanculo ok questo che è l'attacco base ok uccidendo questi qua che sarebbero la cosa migliore da uccidere sarebbe una roba migliore praticamente ok mi c'è accesa mi c'è accesa bravo bravo ok devo andare su di soldi ragazzi perché ok c'è quello indiano là di merda che non è capace neanche di guardarsi le palle vaffanculo adesso di cazzo ma è una merda non è capace di giocare ragazzi no io l'unico problema che ho sapete qual è che ho veramente poca energia eccolo fanculo se ne è sgammata sono morto ragazzi beh da qui e portare a spero una velocità un po' più veloce che è che è che è che è Ah Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.